Ad un convegno della Sinistra Unita, da articolo 1 a quelli che sono l'EU, a quelli che sono le fronde più basse della Sinistra, compreso il PD che era rappresentato dal segretario regionale, ad un convegno partecipato per realizzare un servizio. I temi sul tavolo erano tanti, il convegno veniva due giorni appena dopo lo sciopero generale, quello sciopero generale che il PD non aveva partecipato, anzi aveva giudicato inutile e non necessario, che arrivava in un tempo forzato dove non ce n'era bisogno. A questo convegno, mentre i responsabili della giornata, della discussione della giornata, preparano il tavolo, preparano le sedi e mettono a posto quelle che sono le vele per ricordare la scenografia di quello che è il convegno, ci sono degli avventori della sala dove normalmente gli anziani si ritrovano per fare vita sociale e nasce una sorta di colloquio tra le persone che fanno parte del circolo, che frequentano il circolo e i rappresentanti della sinistra che stavano preparando il convegno. La domanda è ma voi chi siete? Noi siamo articolo 1 e poi c'è il PD, la sinistra unita che oggi vuole parlare di temi importanti e la domanda dell'interlocutore di quelle pesanti, cattive, alle quali è difficile rispondere. Sì, ma voi che cosa fate di diverso rispetto agli altri? Ecco, appena una settimana fa ho fatto una trasmissione di Don Quixote proprio con una sorta di indagine dedicata alla sinistra, alla ricerca della nuova sinistra, che fine ha fatto la sinistra, dove ha sbagliato la sinistra, quali sono i temi della sinistra. Ecco, ai tanti interlocutori che ci sono stati mi sono dimenticato di fare una domanda come questa, fondamentale, ma voi cosa fate di diverso rispetto agli altri? Perché l'interlocutore diceva perché voi continuate a parlare dell'antifascismo, la lotta al fascismo contro tutti i fasci, i fasci che ritornano puntuali, però voi con Draghi fate il governo insieme con i fascisti della Lega, quelli che voi chiamate i fascioleghisti. E lì l'interlocutore che rispondeva della sinistra è rimasto un po' in difficoltà, perché in effetti era una riflessione necessaria dovuta quella domanda, perché in effetti non c'era modo per poter controbattere quello che era la scelta, sia per l'articolo 1, sia per l'EU, sia per il PD, far parte del governo sotto la guida di Mario Draghi, ma dove ci sono Lega, dove ci sono PD, dove c'è l'EU, tutte le forze della sinistra, meno la sinistra italiana, che hanno chiesto un posto per ministro, per sottosegretario, per far parte di quel governo e quindi si governa insieme con i fascioleghisti. Le domande sono difficili, ma difficili sono le risposte e soprattutto le domande sono difficili perché quando colpiscono nel segno, quando lasciano una traccia, sono domande che restano e che danno la dimostrazione della verità attuale. Si può parlare di lotta al fascismo contro tutti i fasci, eccetera, eccetera, e poi fare un governo di larghe intese insieme con la Lega, che spesso e volentieri viene chiamato il fasciolega. Era necessario farlo? Era il modo per comunque esserci e non lasciarsi spuggire la polpetta nel piatto? Non lo so se sia così, forse magari potrebbe essere sicuramente così per il PD che ha cambiato molto la sua pelle, ma per la sinistra che è sempre stata sinistra, per quella sinistra che ha lottato per essere sinistra, farci parte per prendere un sottosegretario o per avere un ministro, la racconta lunga e difficilmente da rispondere. Nonostante tutto, la mia più cortiale buona serata. Grazie a tutti.